Radio Radicale, siamo con Stefano Candiani della Lega per parlare della vicenda dei dossieraggi. Allora, voi della Lega siete, ho visto le dichiarazioni di Salvini, non saprei dire se è preoccupato o risentito per quello che è successo. Però ogni partito rivendica il fatto di essere stato spiato. Allora, se dovesse riassumere questa vicenda, come la trova? Una vicenda all'italiana, boccaccesca, legata al giornalismo o alla voglia di distruggere la nuova classe politica emergente? Temo che questa sia una vecchia storia, più che una nuova storia, perché periodicamente questo tipo di dossieraggio emerge. E non è una cosa che può impensierire la Lega e non altri, ma è una questione che riguarda le intere garanzie del sistema costituzionale. È evidente che se ci sono parti degli apparati dello Stato o funzionari infedeli rispetto alla Costituzione, perché questo tipo di azioni non sono lecite, questi vanno perseguiti e questo tipo di situazione, che periodicamente si ripresenta, evidentemente si basa anche su compiacenze che non possono essere tollerate. Ci sono degli strumenti a disposizione di chi fa indagini, della magistratura, delle forze dell'ordine, che non sono da mettere in discussione, ma ci sono degli utilizzi illeciti di questi strumenti, come abbiamo visto, per andare a fare dossieraggio, come si dice, con la rete a strascico. Cioè tiriamo su tutto di tutti, dopodiché vediamo quello che ci conviene, lo possiamo usare per andare a ricattare piuttosto che a colpire o denigrare. Questo è gravissimo. Che avvenga poi all'interno di alcune istituzioni come l'antimafia, piuttosto che di alcuni uffici di tribunale, eccetera, non è che questo sia un esimente, ma un aggravante. Non è che se viene fatto qualcuno oggi cerca di farlo passare come una normale attività investigativa, dopodiché magari qualcosa è scappato fuori dalla rete. Non è così. Non si possono prendere informazioni sulle persone se non ci sono delle indagini che le riguardano. E questo ovviamente deve avere le autorizzazioni del caso da parte delle autorità preposte di magistratura. Se ciò non è avvenuto e si è fatto dossieraggio, bisogna che ci sia una risposta molto severa e molto seria nei confronti di chi si è reso responsabile di queste azioni. Entra in ballo nella questione del cosiddetto dossieraggio la libertà di stampa. Allora, un quotidiano ha tratto degli articoli da queste intromissioni nella rete riservata. Allora, è giusto innalzare la bandiera della libertà del giornalismo a scapito degli accessi abusivi nei sistemi informatici che rivelano cose che non dovrebbero essere in nome della filosofia di Assange? Eh no, non è esattamente la stessa cosa. C'è premesso che c'è sempre un limite che è quello del non andare a utilizzare in maniera, ripeto, distorta al di fuori di indagini le informazioni. Qui non stiamo parlando di scoop giornalistici. Qui da quello che emerge, che leggiamo sulla stampa stessa, emerge un sistema di denigrazione attraverso la stampa utilizzando dossieraggio, che è cosa ben differente. Cioè questo è un killeraggio a tutti gli effetti, fatto su personaggi politici essenzialmente di destra e centro-restra. Sì, essenzialmente è quello. Dopodiché, come dice il vecchio proverbio, il diavolo non è mai quello che ti dice il falso, ma è quello che mescola il vero e il falso. Non si capisce poi più la differenza tra ciò che è vero e ciò che è falso. E questo è un danno per tutti. Ripeto, le istituzioni non possono essere inquinate da questo tipo di azioni illegali. C'entra laudati? Ci sono le indagini a dirlo, cioè ognuno fa la sua parte. Io faccio il parlamentare, chi deve fare indagini di magistratura faccia le indagini di magistratura. Di sicuro il sistema si basava su complicità evidentemente estese. Ha fatto bene Taltini ad adattare la voce? Necessario, dovrebbe farlo chiunque, perché non è una questione che oggi interessa a me e domani non interessa a te. Cioè, questa è una questione di regole ed è una questione anche di rispetto dei diritti democratici dei cittadini. Va bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità. Ringrazio Stefano Candiani della Lega. Prima che arrivino i commessi a prenderci e a tagliarci tutto il video.